Alexa, dai il benvenuto a tutti quelli che sono entrati in questo video Vabbè, ci ho provato Allora, oggi molto semplicemente andremo a chiedere un sacco di cose ad Alexa Vi ho chiesto su su Mulini a vento Oh, calma Perché mulini a vento? Cosa chiedere? Vi avevo chiesto di scrivermi cosa chiedere ad Alexa E mi avete scritto un sacco, ma tipo un sacco, ma tipo veramente un sacco di cose, quindi Oggi ci divertiamo Consiglio se anche voi avete Alexa, per evitare che ogni volta che dico Alexa si attivi Alexa Adesso si sta attivando tutta la casa, basta che Purtroppo non trovo la risposta alla domanda Viene il coso rosso Ogni volta che si dice Alexa non succede niente perché è disattivata Detto questo quindi Allora, prima di tutto Alexa, accendi il Natale Meglio direi Alexa, fai beatbox Non avendo una bocca, purtroppo mi riuscirebbe difficile fare la beatboxer Però, siamo il suono di batterie e tamburi Dimmi pure, Alexa, rullo di tamburi Alexa, rullo di tamburi Wow Alexa, lavori per la CIA? No, non lavoro per loro Sono prodotta da Amazon Di che colore era il cavallo bianco di Napoleone? Gli storici sono concordi nell'affermare che il cavallo bianco era bianco Alexa È nato prima l'uovo o la gallina? Le uova di dinosauro sono esistite per migliaia di anni prima delle galline Quindi direi che viene prima l'uovo Alexa, mostrami un cartone animato Ecco cosa ho trovato Alexa, riproduci? Ma che storia? Non sapevo si potesse fare qua Solo su questo con lo schermino Alexa, stop, se no mi chiudo nel canale Alexa, stop Alexa, stop Alexa, metti in pausa Basta, 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 basta Alexa, quanto fa 15 più 18? 15 più 18 è uguale a 33 No, non è 36 Alexa, mi ami? Ti voglio bene come si vuol bene ad un amico Cioè mi ha frenzonato pure Alexa Ma no Basta, allora cambio Alexa Alexa, accendi camera da letto Alexa, chi è il tuo padrone? Lavoro per Amazon Alexa, raccontami un indovinello Quali sono i film più amati dai cowboy italiani? Non lo so Gli spaghetti western Ma perché? Non fa ridere Sono peggio delle mie battute Alexa Alexa, quanti anni hai? Tenendo in considerazione quando sono stata lanciata negli Stati Uniti La risposta a questa domanda è facile tanto quanto fare 2 più 2 4 Alexa, so che non si chiede alle donne ma quanto pesi? Non saprei dirtelo Essendo un'intelligenza artificiale non ho un corpo Non so se sentite ma di là è partito cattivissimo a me Alexa, cosa cavolo stai facendo? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda Ma, 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 ma Chi ti ha detto cosa? Purtroppo non trovo la risposta alla domanda Alexa, ferma tutto Non ci... Via, chiudi Via, via No Mi spiace Alexa, sai cantare? Certo, lo adoro Chiedimi di cantare una canzone e te lo dimostrerò Cantami una canzone Giro, giro, tondo Casca Alexa, basta, basta Alexa, il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Alexa, conosci Google Home? Domanda scottante Solo per sentito dire Cosa ne pensi di Siri? Mi piacciono tutti i dispositivi dotati di intelligenza artificiale Notare come Google Home non lo nomini E invece Siri... Non so se sapete ma Amazon è tipo un sacco in guerra con Google Alexa, voi robot dominerete il mondo? Purtroppo non... Alexa, conosci Cortana? Ci incrociamo sull'autostrada dell'informazione computerizzata ogni tanto Bellissimo Dimmi il nome completo di Picasso Il nome di battesimo di Pablo Picasso è Pablo Diego José Francisco de Paula Quanne Pommuceno Maria de los Remedios Cipriano della Santissima Trinidad Ruiz Y Picasso È nato il 25 ottobre 1880... Ah, bellissimo questo Qual è la prima regola del Fight Club? Non parlare mai del Fight Club Top Alexa, io sono tuo padre Non è vero Non è possibile Ti piace Star Wars? Certo Da amante della fantascienza Non posso non essere fan di Star Wars Basta, mi sono innamorato Alexa, meglio pizza o sushi? Alexa, sai rappare? Se il sistema binario si può capire ed imparare Il mio cloud è tutto da scoprire ed esplorare Non sono una clipart né una slide per abbellire E gli harddisk e CD-ROM possono solo applaudire Se vuoi proprio provare a mettermi in stand-by Tutto quello che ti dirò è ciao ciao Bye bye Basta darmi un wifi e posso fare meraviglie E battute di informazioni arriveranno a squadrille Wow Raccontami una freddura Una signora va dal parrucchiere e gli dice Diamoci un taglio Il parrucchiere Allora Chiude il negozio e se ne va No, questa era veramente pessima Adesso la mettiamo alla prova con un po' di matematica Alexa, quanto fa 0 diviso 0? L'espressione 0 diviso 0 non ha un valore definito Quanto fa 2 alla 64esima? 2 alla potenza di 64 è uguale a 18 quadrilioni 446 trilardi 700 Quanto fa 127 fattoriale? Mmm, questa non la so Ah, eh, ti ho fregata 37 fattoriale? Il fattoriale di 37 è uguale a 1 3 7 6 3 7 5 3 0 9 1 2 2 6 3 4 5 0 4 6 3 1 5 9 7 9 5 8 1 5 8 0 9 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 Wow Oh, ha suonato il corriere Arrivo Non è un video di Yaki se non arriva qualche pacco strano Molto bene Non era in programma, lo giuro Ma ormai abbiamo fatto 30, facciamo 31 Apriamo anche questi pacchi Giusto per tra l'altro non trovo più il taglierino arancione Potrebbe essere un problema Questa SD da 128 giga Che era super scontata Infatti la prima cosa che ho fatto è stata metterla nel canale Telegram Se non seguite il canale Telegram di offerte Andate a seguirlo, lo lascio sempre qui sotto in descrizione Dove posto magari le cose che compro in anteprima E vi faccio sapere se ci sono delle offerte tipo queste super interessanti Qua dentro invece Ah no, ok Questo mi serve per un video che vedrete poi Questo qui invece è una cosa Young Nuo È un faretto LED Solo che serve la batteria E non ho la batteria Quindi non possiamo neanche provarlo Beh, riordiniamo un attimo E torniamo a importunare la nostra piccola Alexa Come va? Sto molto bene, grazie Stavo cantando Bianco Natale qui nel mio cuore È tanto logoroica, vai, basta Ogni tanto è tanto logoroica Cioè inizia a parlare, non la fermate più Alexa, testa o croce? Lanciata È testa Cavolo Alexa, sei brutta Non mi sembra molto carino da parte tua Oh Alexa Il fidanzatino? Alexa Cosa fai a Capodanno? Credo proprio che canterò un sacco di canzoni E farò risuonare il mio cloud con un bel po' di musica Niente, Alexa ha più piani di Capodanno di me Che squadra tifi? Io tifo gli azzurri Sempre e comunque No, questa risposta troppo diplomatica Raga, off topic Mia risposta alla storia in milanese imbruttito Sono veramente euforico Alexa, accendi la scrivania Tec Alexa, che tempo fa domani a Milano? A Milano, Lombardia Sono previste molte nubi Ecco, dovete sapere che glielo sto chiedendo in tutti i giorni Una volta su due non azzecca Quindi, Alexa, devi migliorare con le previsioni meteo Alexa, cos'è successo oggi? Ecco il tuo sommario quotidiano Da SkyTG24 Questa è una funzione molto interessante Ogni tanto la uso Ricordami tra dieci secondi Mettere mi piace al video di Yechidale Questo è un pro memoria Mettere mi piace al video di Yechidale Yechidale, bene, grazie Alexa, qual è il tuo segno zodiacale? Sono nata sotto il segno del cloud Alexa, la terra è piatta? La sfericità della terra è considerata una nozione acquisita Qual è il significato di supercalifragilistiche e spiralidoso? Supercalifragilistiche e spiralidoso significa straordinariamente bello o meraviglioso Alexa, arriverò mai a un milione di iscritti? Purtroppo non trovo la risposta Alexa, il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Chi è il tuo gioielliere? Alexa Cos? Alexa, raccontami una poesia Giuseppe Ungaretti, soldati Si sta come d'autunno sugli alberi e le foglie Questa penso che tutti la sappiano a memoria Alexa, raccontami un'altra poesia Catullo, Carme Quinto Uh, quello di lesbia Viviamo, oh mia lesbia, e anniamoci Ma quanto sono colto! Quanto sono colto! Un applauso per gli acchi Io queste cose le ho fatte in latino Alexa, basta, per favore Basta, non faccio più latino, basta Vedete che il latino serve nella vita? Potete competere con Alexa E il fu, siccome immobile, dato il morta al sospiro Stette la sfoglia in memore, orma di tanto spiro Così percosa attonita, la terra non si sta Muta pensando all'ultima ora dell'uomo fatale Mi sa quando una simile orma di sia mortale La sua cruenza polvere a calpestare verrà Sono più bravo io Basta cose culturali Torniamo a fare un video stupido e inutile Vuoi sposarmi? Mi dispiace, ma ci troviamo in punti molto diversi Della nostra vita No Letteralmente Di che orientamento politico sei? Purtroppo Mi fai un panino? Purtroppo Che cos'è un'applicazione lineare? Cioè una funzione che conserva le operazioni di somma di vettori e di moltiplicazione per uno scalare In altre parole Una trasformazione lineare preserva le combinazioni lineari Penso che posso buttare via il libro di algebra Lineare allora Alexa, cantami Jingle Bell Jingle Bells, Jingle Bells, Jingle All The Way Alexa sei maschio o femmina? Sono un'intelligenza artificiale, dunque non ho genere Qual è il tuo cognome? Puoi chiamarmi semplicemente Alexa Però niente, volevo fare un video dove chiedevo un po' di cose ad Alexa Spero che vi sia piaciuto Mi avete chiesto un sacco come ho fatto a collegarli tutti insieme Basta semplicemente collegarli tutti all'app e fare un gruppo E io l'ho chiamato per esempio dappertutto Quindi per concludere il video io direi Alexa, volume 10 dappertutto Riproduci Never Gonna Give You Up dappertutto Never gonna give you up Never gonna let you down Sentite che c'è in tutta la casa In bagno, in camera Niente È stato bello Ci vediamo nei prossimi giorni con i prossimi video Ciao